Buonasera e ben trovati in Suarezso TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura alla cronaca. Grave incidente questa mattina a Bucine. Alle 7 i mezzi dell'emergenza urgenza dell'ASL Toscana Sud-Est sono intervenuti lungo la strada provinciale Valdambra per l'investimento di un pedone. Si tratta di un uomo di 52 anni che è stato investito da un'auto. L'uomo stando ai primi accertamenti sarebbe stato urtato con la parte anteriore della vettura. L'impatto gli avrebbe fatto perdere l'equilibrio e sarebbe caduto sbattendo violentemente la testa riportando un trauma cranico. Pur non essendo in pericolo di vita, i sanitari hanno disposto il trasferimento con l'elisoccorso Pegaso 1 all'ospedale Caregge a Firenze in codice 3, quindi il codice rosso per monitorare le sue condizioni. E adesso la cronaca giudiziaria resterà in carcere il presunto assassino di Joel Ramirez Seipo. Il Tribunale del Riesame ha respinto la sua scarcerazione. Il servizio. I fatti di sangue risalgono allo scorso primo ottobre, un episodio violentissimo conclusosi con la morte del 38enne, raggiunto al collo da un frammento di un'ampolla di vetro per fumare il narghile che si è infranta negli scontri e che ha provocato la morte per un'emorragia gravissima. A distanza di una settimana dai fatti furono i carabinieri a rintracciare il presunto omicida grazie a testimonianze e immagini di video e sorveglianza decisive e le scarpe rosse che il 33enne indossava quella notte. Ancora un incidente in una delle strade principali di Arezzo nel primissimo pomeriggio di oggi. I mezzi dell'emergenza urgenza della ASL Toscana Sud-Est sono intervenuti alle 13.45 in via Romana per uno scontro tra due auto. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, la polizia municipale, l'ambulanza infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino, l'ambulanza della Misericordia di Arezzo e l'automedica di Arezzo. Due persone sono rimaste ferite nell'impatto, si tratta di due uomini di 73 e 59 anni. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Ed è stato tratto in arresto lo scorso agosto con l'accusa di furto aggravato, sottoposto all'obbligo di dimora, non avendo rispettato le prescrizioni dell'autorità giudiziaria, è finito nuovamente in manette. Si tratta di un uomo residente a Foiano. Ieri i carabinieri della stazione di Foiano hanno dato in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Arezzo, sezione penale. L'uomo dunque avrebbe violato più volte l'obbligo di dimora. Ed esperti e politici sono stati a confronto sul tema stazione alta velocità a Rigutino. Vediamo com'è andata. I pesi relativi rispetto alla realtà, pensiamo a quella industriale, fa scegliere in maniera inequivocabile una scelta che privilegi il territorio retino piuttosto che quello senese, senza nulla a togliere gli amici senesi, per l'amor di Dio. Di fatto le simulazioni mettono in evidenza che il miglioramento per Siena è estremamente contenuto e anche per Perugia e quindi di fatto sarebbe una penalizzazione solo per una città. Questo è il risultato che emerge dalle simulazioni. È una partita in cui la provincia di Arezzo gioca a carte scoperte quella sulla stazione dell'alta velocità, la cui posizione ideale sarebbe Rigutino. Delle cinque ipotesi possibili per Medio Etruria, la scelta infatti ormai è ridotta a tre da quanto emerge dall'ultima riunione del tavolo tecnico a Roma al Ministero dei Trasporti, chiamato entro la fine dell'anno a produrre un documento che la politica poi dovrà tradurre in un piano operativo. Arrestare sul tavolo Rigutino, Creti e Treberte. I numeri dicono che il bacino di utenza di Rigutino è certamente maggiore di quello che potrebbe produrre la localizzazione di Creti. Quindi a Rigutino si arriva attraverso la linea lenta della ferroviaria, sia da nord che da sud, quindi c'è quel criterio di intramodalità che deve passare come concetto virtuoso per far sì che ci sia una riduzione comunque delle emissioni. Ad Arezzo il comitato Sava con l'associazione tra Tevere e Darno, nella Sara dei Grandi della provincia di Arezzo, ha organizzato un convegno sul futuro di Medio Etruria per ribadire la centralità della scelta di Rigutino. La stazione di alta velocità di Rigutino non è oggi, era ieri, oggi la sosteniamo e siamo fermamente convinti che domani sarà una realtà. Gli esperti servono semplicemente per dimostrare in modo oggettivo che Rigutino è il luogo più adatto, più economicamente conveniente, più opportuno per costruire questa nuova stazione e non altri luoghi. Oltre ad avere un bacino di utenza nettamente superiore rispetto a quello di Creti, abbiamo anche una carta vincente che è rappresentata dall'intramodalità, cioè dall'integrazione ferro-ferro, che attualmente pone la stazione in alta velocità di Rigutino a soli 150 metri dalla linea lenta che serve Roma e Firenze, ovviamente, quindi c'è una possibilità di un interscambio ferro-ferro che è un elemento secondo me vincente anche nell'ottica della decarbonizzazione. Dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena, invece, l'appello è di evitare una corsa per campanilismi. Capiamo che una stazione intermedia tra Firenze e Roma, come lo è tra Milano e Bologna, sia assolutamente necessaria, utile per tutto, per le imprese, per le famiglie, per i cittadini, per il turismo, quindi abbiamo davvero una grandissima opportunità che non deve essere sprecata, quindi tutti, ovviamente, dobbiamo innanzitutto operare perché si possa realizzare davvero. Chiediamo che poi, piano piano, ragionando, anche si trovino le soluzioni migliori. La prossima riunione a Roma è fissata per il 16 novembre, quando RFI dovrà dire dove è più opportuno e conveniente realizzare la Medio Etruria. E quindi ci auguriamo che si arrivi alla determinazione della localizzazione definitiva e poi non si perda ulteriore tempo per realizzare quest'opera. Di rilancio, lo ripetiamo da 24 mesi, dell'intera provincia di Arezzo, di quella di Siena e di quella perugina. va scelto in fretta lì dove possano tutte le province concordemente trarre un beneficio per lo sviluppo economico e sociale delle loro terre. Ci sono state due iniziative sul tema multiutility toscana ad Arezzo nello stesso giorno, stessa ora e quasi stesso luogo, una organizzata dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Arezzo e l'altra dai comitati. Il servizio. Stesso giorno, stessa ora e quasi stesso luogo. Ad Arezzo due iniziative si sono infatti svolte contemporaneamente sulla multiutility toscana che è stata costituita a Firenze lo scorso gennaio allo scopo di poter gestire congiuntamente acqua, luce, gas e rifiuti di tutta la regione. Noi stiamo valutando il nostro ingresso che però ad oggi è un ingresso soltanto per un'operazione di capitale visto che la multiutility non agisce come prestatore di servizi nel nostro territorio in quanto noi siamo nell'ambito della Toscana del Sud che ad oggi non ha servizi gestiti direttamente dalla multiutility. La prima iniziativa è stato un convegno organizzato dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Arezzo nella sala consigliare, mentre la seconda un dibattito pubblico promosso dal Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua, il Comitato Acqua Pubblica, Acli, Arci, CGL, Associazioni No Multi Utility e Riprendiamo il Comune all'Auditorium Maldoducci. Il primo convegno si è concentrato sulle prospettive e le opportunità di sviluppo dei servizi pubblici territoriali che potranno essere offerti dalla multiutility. La multiutility serve alla Toscana, una grande azienda da almeno 4-5 miliardi di fatturato capace di avere la sufficiente forza economica per sostenere i territori, per fare investimenti, perché oggi gestire i servizi pubblici non è più un aspetto economico accessorio di sussistenza, oggi è occasione e motivo di sviluppo, è abilitante una grande azienda per i nostri territori, un'azienda che riversi gli interi dividendi e gli investimenti in casa propria. Diciamo che pericoli ci sono sempre quando si affrontano percorsi nuovi, l'importante è essere consapevoli di che percorso si vuole affrontare, quali sono gli obiettivi che ci si pone, qual è la strada che si vuole percorrere e soprattutto quali sono i compagni di avventura. Un'analisi critica sul progetto invece nel dibattito organizzato dai comitati. Ormai sono più di 20 anni che di volta in volta si richiamano all'economia di scala, quindi vuol dire che risparmieremo perché si farà un'unica testa in regione per distribuire i vari incarichi per le varie società di gestione che sarebbero sottostanti. Il problema è che fino adesso ogni volta che c'è stato un accorpamento o un'aggregazione sia degli Ato sia di ogni altro ente che era pubblico è diventato che non è cambiato niente per i cittadini, anzi sono aumentati i costi. Quindi anche questa volta noi vogliamo sapere con quale verità possono dimostrare che verranno ridotte le tariffe se fanno questa aggregazione. Qui non si sta parlando di una concessione. Certo che i beni pubblici vengono dati in concessione ai privati, ma un conto è la concessione, cioè la possibilità di utilizzazione di questi beni per la gestione del servizio. Un conto è la titolarità di questi beni. E sono oltre 4.500 i test effettuati nell'ambito della campagna gratuita di screening per l'epatita C partita il 4 settembre scorso e destinata alle persone che hanno tra i 34 e i 54 anni. Ce ne parla Greta Settimelli. Cercare di far emergere il sommerso, i casi appunto ancora non diagnosticati di epatite C. Questo l'obiettivo di uno screening voluto dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana. Si stima che ancora ci siano 250-300 mila persone in Italia che possano presentare queste epatite. Quindi lavoriamo sulla sensibilizzazione, lavoriamo sullo screening per recuperare queste persone e poterle trattare con successo con una terapia che effettivamente nell'arco di 2-3 mesi li può guarire in un'altissima percentuale di casi. La campagna promossa dalla Regione Toscana e finanziata dal Ministero della Salute è partita a settembre e coinvolge i toscani tra i 34 e i 54 anni ai quali viene inviato un SMS per informarli dell'opportunità. Nel caso specifico delle epatite C noi non abbiamo un vaccino, quindi in questo caso la prevenzione non può essere fatta a differenza di quello che invece è avvenuto per le epatite A, le epatite B molto grazie al vaccino si è ridotta enormemente la diffusione a livello globale. Però abbiamo la possibilità di fare dei test di screening, quindi uno screening generale. Si tratta di far emergere una situazione di sommerso, quindi di persone che non sanno di avere l'epatite o se comunque lo sanno devono rivolgersi a centri clinici perché effettivamente abbiamo a disposizione un trattamento e nel caso in cui fanno un test di screening, in caso di positività di questo test, il medico di famiglia chiederà una conferma e se la conferma sarà positiva a quel punto andranno indirizzate a un centro clinico di riferimento che è presente in ogni zona della nostra azienda. L'epatite C oggi si può sconfiggere, ma il test è fondamentale per la diagnosi perché spesso la malattia decorre senza sintomi fino a diventare cronica ed evolvere in forme molto gravi che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato. Le epatite virali sono molte e tra queste ci sono delle epatite che oggi possono essere curate. Abbiamo a disposizione oggi dei farmaci che possono guarire in un'alta percentuale paziente. Si parla di trattamenti che hanno un'efficacia del 96-97% dei casi. Fino ad oggi si sono sottoposti al test oltre 10.000 cittadini. In 101 sono risultati positivi. Il test si può effettuare in una delle sedi delle associazioni di volontariato che hanno aderito alla campagna oppure nelle sedi ASL. Giorni e orari sono indicati sul sito della Regione Toscana. Se siete appassionati di fotografia con il pallino e di documentare la bellezza degli ambienti modellati dall'acqua c'è l'occasione di partecipare alla quinta edizione del concorso fotografico Obiettivo Acqua organizzato e promosso da Coldiretti, Ambi e Fondazione Univerde con il patrocinio di Global Network e Water Museum Unesco. Il concorso offre ampie possibilità di spaziare con sensibilità e fantasia attraverso agricoltura, ambiente, vivibilità e fruibilità dei corsi d'acqua, cambiamenti climatici e biodiversità. Le candidature da avanzare attraverso il sito obiettivoacqua.it vengono accettate fino al prossimo 31 gennaio. Due le categorie a cui è possibile partecipare, colore e bianco e nero. Al vincitore di ogni categoria andranno 500 euro. E adesso parliamo di musica classica. La Casa Museo Ivan Bruschi con il concerto di Jacopo Petrucci ha chiuso la diciottesima edizione della stagione concertistica. Chiara Ciadotti È stato il pianista italiano Jacopo Petrucci a chiudere la diciottesima edizione della stagione concertistica alla Casa Museo Ivan Bruschi. Sei imperdibili appuntamenti con giovani e giovanissimi talenti del panorama italiano ed internazionale. È una missione quella di cercare di valorizzare questi giovani che spesso e volentieri le grandi associazioni concertistiche non chiamano. Invece per un giovane avere la possibilità di sperimentare la sua bravura sul palcoscenico con il pubblico è una cosa fondamentale. È un ragazzo dell'Aquila tra l'altro del 99 quindi giovanissimo che tra l'altro appunto ha vissuto anche il dramma del terremoto del 2009 e però nonostante questo ha saputo poi riscattarsi attraverso la musica trovando una strada meravigliosa per un pianista veramente eccezionale. Inizierò proprio con Schumann, il repertorio sarà per la prima parte due opere di Schumann, l'arabesque opera 18 e la fantasia opera 17, mentre nella seconda parte Debussy con le due arabesque e poi il primo libro di Imaggio. Ho cercato di creare questo collegamento tra due autori molto diversi tra di loro ma che hanno utilizzato la forma dell'arabesque che in realtà è una rarità nel repertorio. E torna domani a Castiglione Fiorentino come da tradizione la camminata tra gli olivi promossa a livello nazionale dall'Associazione Città dell'Olio. Il programma della camminata prevede la partenza alle ore 14 e 30 dal Parco del Cilone presso la chiesa della Val di Chio. L'itinerario si svilupperà su un anello di circa 6 chilometri di facile percorrenza. Lungo il cammino non mancherà infine una sosta al frantoio Badini per degustare l'olio nuovo. E in occasione della ventesima edizione del trekking urbano martedì 31 ottobre Arezzo si racconta attraverso un itinerario inedito. Un percorso tutto da scoprire che condurrà tra i tesori del centro storico e che vedrà protagonista anche la giostra del Saracino. È proprio con la visita al percorso espositivo I Colori della Giostra a piano terra di Palazzo Comunale che partiranno i due trekking a cura delle guide aretine in collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour. Il ritrovo per i partecipanti è alle 10 per il trekking battutino e alle 14 e 30 per quello pomeridiano in Piazza della Libertà. La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria sul sito di discoverarezzo.com oppure presso l'ufficio informazioni turistiche Discover Arezzo in via Giorgio Vasari al numero 13. E adesso passiamo allo sport. Domani è di scena la ventiquattresima edizione della Maratonina Città di Arezzo, la carica dei 1.500. Tanti infatti saranno, qualcuno in più, qualcuno in meno, i partecipanti. Gli iscritti a livello competitivo sono ben 950, oltre 500 invece i non agonisti. Una maratonina nel cuore di Arezzo organizzata dal UP Policiano con in testa Fabio Sinatti e la sua famiglia. La gara più attesa a livello internazionale si disputerà sulla classica distanza di 21 chilometri. Previste anche la 10,5 chilometri sia agonistica che non e la 3,5 chilometri non competitiva. In palio anche il campionato italiano medici, gara valevole per il Memorial Tommaso Amato e Paolo Veraldi e iniziativa Il Cuore in Corsa. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Grazie.